Mi ha convinto innanzitutto la serietà del Presidente e della società qui rappresentata dal Direttore e poi la voglia di giocare, perché onestamente lo scorso anno, nonostante sia stato benissimo, mi era passata un po' la gioia di giocare, di fare questo sport. Invece, grazie a Dio, mi sento di avere tanta passione, quindi non vedevo l'ora e non vado l'ora di iniziare a lavorare, però penso che abbia fatto la differenza, la serietà della società. L'ho vissuta bene, altrimenti non mi sarei nemmeno accostato a parlare, quindi se sono qui è perché ho voluto essere qua e ho voglia di essere qua. Non vedo l'ora di lavorare, perché quando sei a casa e stai 4-5 mesi a casa, a me è 3 anni che mi capita di trovare squadra a fine agosto, non è bello. Quindi sono felice di essere qua, sono contento di aver sposato questa società, questa causa. So che non è facile e so che sicuramente sarà molto difficile fino all'ultima giornata, però mi associo a quello che ha detto il mister. L'unica medicina che conosco in questi casi, ma anche quando si vince, è il lavoro e l'unione di intenti. Quindi sono convinto che con il lavoro e con l'aiuto di Dio possiamo a fine anno arrivare a questa salvezza calcistica che sarebbe una vittoria di campionato per tutti. Io mi sono fatto un'idea in generale del campionato, che ci stanno 5-6 squadre che sono di un livello superiore rispetto alle altre. Però dopo queste 5-6 squadre penso che ci sia un livello molto equilibrato. E' la Vibonese tra queste squadre. Penso che si possa giocare tranquillamente alla salvezza, magari all'ultima partita, magari ai play-out, non lo so. Però sono convinto e se sono qua è per questo che la Vibonese se la può giocare alla grande. E' ovvio che niente è facile in questo momento ancora di più, però tutti insieme possiamo secondo me far bene. Per me è fondamentale, vabbè, un po' per tutti, però per me ancora di più star bene fisicamente, avere la possibilità di allenarmi tutta la settimana. Forse sono stato più scarso degli altri, però grazie a Dio ho giocato 14 anni e ho sempre giocato. Io ho visto per strada i ragazzi che sono amici miei, che erano tanto più forti di me tecnicamente e non hanno fatto una bella carriera rispetto a quello che forse meritavano. Non so, forse l'aver sofferto in passato Dio mi ha dato altre cose per poter giocare comunque 14 anni e 12 anni in Serie C1. Quindi mi reputo lavoratore. Senza lavoro mi sento un giocatore morto. Mi ruolo naturalmente a mezza alla sinistra, però poi in base all'esigenza dell'allenatore e della squadra proverò a fare tutto.